Puoi sapere qual è la cosa costruita dall'uomo più costosa in assoluto? Vale più di 2 milioni di Tesla messe assieme. No, non è una macchina di russo. Neppure un orologio costoso. Neppure un miliardo di colla ador messe insieme. Ad esempio questo sobrio orologio con questo mini quadrante è stato venduto per 55 milioni. Questo quadro di Da Vinci per 450 milioni, ma siamo molto lontani. Questo aereo militare è praticamente invisibile radar. Costa un miliardo e 300 milioni. E questa casa che si trova in India di 27 piani ha addirittura 3 heliporti. Un garage per 180 macchine e 600 dipendenti. E costa 2 miliardi e 800 milioni, ci vive lui con tutta la famiglia. Questo mega yacht è ricoperto di ore e diamanti. Decorato addirittura con ossa di T-Rex, il dinosauro. Costa quasi 5 miliardi. Tutta sta roba che costa è tu che non mi segui manco gratis. Ma siamo ancora molto lontani e la cosa più costosa potete guardarla a tutti, basta alzare lo sguardo. È la stazione spaziale internazionale e ha un costo finale che supera i 100 miliardi di dollari. Ma ci avevi pensato?